Presidente, ancora una volta il concetto di inaugurazione dell'anno accademico si terrà presso l'Auditorium Sant'Agostino, in collaborazione questa volta con l'Università degli Studi del Sannio. Ce ne può parlare? Sì, infatti abbiamo attivato già da qualche settimana una forma di collaborazione che poi si definirà con la firma di un protocollo di intesa con il nuovo rettore dell'Università del Sannio, il quale ha individuato un delegato alla cultura del professor Felice Casucci con il quale stiamo cominciando ad elaborare un programma di una stagione concertistica che si realizzerà nell'ambito di attività dell'Università. Quindi cominciamo come evento sperimentale con il concerto di inaugurazione del nostro anno accademico, per cui utilizzando non solo gli spazi che l'Università ci ha offerto, ma soprattutto cominciando a mettere in rete il conservatorio con l'Università stessa per promuovere da una parte la nostra eccellenza e quindi integrare la musica, l'alta formazione culturale che realizziamo all'interno del conservatorio con le altre discipline umanistiche, soprattutto, ma anche quelle giuridiche dell'Università del Sannio. Quindi il rettore conta molto su questa nostra collaborazione, grazie anche al suo amore per la musica. E quindi lui appena si è insediato è stata la prima cosa che ha voluto in qualche maniera mettere in campo. Quindi siamo all'inizio, siamo ancora in una fase preliminare, contiamo di firmare questo protocollo di intesa breve e di avviare una programmazione seria. Quindi credo che sia un momento di opportunità non solo per l'Università ma anche per noi, per il nostro conservatore, per i nostri allievi e anche, devo dire, per la città, perché comunque metteremo in campo una produzione artistica che offriamo alla città e al territorio. Quindi questo è un ulteriore elemento, come dire, della nostra integrazione, della nostra volontà e della nostra disponibilità per il territorio. Benissimo, grazie. Passiamo adesso col direttore all'aspetto in effetti artistico e musicale. A risibirsi sarà ancora una volta l'orchestra sinfonica del Conservatorio Nicola Sala, diretta dal maestro Ciampa. Parliamo quindi appunto dell'aspetto musicale e anche di una dedica particolare che quest'anno avrà il nostro concerto. Questa è la nostra sesta edizione del concerto di inaugurazione che per il nostro conservatorio vuol dire la prolusione come per l'Università. L'Università inaugura l'anno accademico con una prolusione. Noi abbiamo pensato che inseriti ormai da tempo nel circuito dell'Università la nostra forma di inaugurazione fosse proprio quella di un concerto sinfonico con la nostra orchestra perché si presenta nell'insieme tutta la nostra offerta formativa e la forza della nostra offerta formativa perché costituire un'orchestra in un conservatorio non è stato da tutti. Quindi la caratteristica del Conservatorio di Benevento è proprio quella che nel giro di 5-6 anni ha realizzato un'orchestra giovanile. Ci tengo a dire che gradualmente la nostra orchestra è diventata fondamentalmente di giovani. Abbiamo 7 docenti e 4 esterni e poi i rimanenti 60 sono studenti del conservatorio. Si vedrà di tutte le età, dai 15 ai 20 ai 30 anni. Quindi abbracciamo tutta l'offerta formativa che va dal vecchio ordinamento al pre-accademico, ai trienni, ai bienni, ai corsi di specializzazione, al biennio di indirizzo per la formazione dei docenti. Quindi veramente tutta la forza in campo. Come per l'opera eravamo in 150 per realizzare Bohème, qui abbiamo un'orchestra di 80 elementi che esploderà con un programma interessantissimo che abbraccia dalla settima sinfonia di Beethoven per gli addetti ai lavori. Si sa che questo non è un repertorio facile per degli studenti. Il lago dei Cigni di Ciecoschi, lo schiaccianoci, una danza di Vorgia che finiremo con Romeo e Giulietta di Prokofiev. Stiamo parlando di un repertorio che è molto impegnativo dal punto di vista didattico e formativo. E quest'anno un'idea particolare purtroppo per un'occasione che ha intristito il Conservatorio della perdita di Carlotta Nobile. È stata un'idea degli studenti immediatamente supportata e sostenuta da me e da Caterina Meglio per dedicare, questo era il momento clou, per dedicare questo concerto a Carlotta che non è più e che oltre a essere una studentessa è stata una studentessa particolarmente sensibile a quello che era la sua formazione musicale. La formazione musicale per lei è stata un momento di consolazione, momenti sicuramente tragici e tristi della sua esistenza. Colgo l'occasione per invitare tutti perché è bello per un'istituzione come la nostra sentire il calore, la presenza, la vicinanza della cittadinanza perché come tante altre forze di questa città lavoriamo in proprio, un po' da soli. Quest'anno finalmente allacciamo questi rapporti sicuramente profiqui con l'università. Il nostro intento è stato sempre quello di aprirci al territorio.